Bene, c'è a tutti due cose da fare se non ti vuole più, cara malgacciona o malgacione. Allora, ci sono delle situazioni in cui può essere che il tuo ex, la persona, si allontani e non ti voglia più. Per esempio, può succedere anche questo. Però prima di affrontare il tema, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Ovviamente seguimi su Instagram, Massimo Tramasco ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube, che adesso sono nove, sono nove. Allora, quando è che capisci che non ti vuole più? Beh, intanto ci sono diverse situazioni. O quando c'è grossa rabbia, compressa, o ci sono dei motivi logici molto pesanti, per cui questa persona magari non ti vuole più. Davvero, può succedere. Soprattutto più che per motivi emozionali, diciamo che quelli sono sempre più o meno recuperabili, secondo me. E quando ci sono dei motivi logici pesanti, tipo, ad esempio, c'è un esempio legato al fatto di avere figlio o non avere figli, di poterne avere o non poterne più avere. Oppure al fatto di motivazioni logiche, persone che magari purtroppo hanno delle patologie, delle cose, invece c'è qualcuno che non se la sente di andare avanti. Anche, non soltanto fisiche, magari anche patologie psichiatriche, ovviamente. Cioè, ci sono tante motivazioni per cui... oppure trovi il grande amore dall'altra parte. Insomma, i motivi per cui una persona non ti vuole più possono essere molteplici. Normalmente sono motivazioni logiche, cioè, come dire, un motivo che è condiviso dalla parte cognitiva, dalla parte logica. Ripeto, se sono soltanto motivazioni emotive, cioè che non gli stai dando le giuste emozioni, Quello, secondo me, è praticamente recuperabile sempre. Non dico nel 100% dei casi, ma, insomma, nel 90% dei casi si può recuperare. Comunque c'è la possibilità di recuperare perché possiamo sempre immettere emozioni. Quando la motivazione, invece, è logico-razionale, tipo quella dei figli, no? Che ne so, la donna che non è più fertile, o viceversa, insomma, oppure uno vuole figli, l'altro non ne vuole, insomma. Quindi quando ci sono delle cose inconciliabili, da un punto di vista logico-razionale, o quando dall'altra parte si trova il grande amore, si trova una grande situazione, o quando ci sono grandi motivazioni economiche, ad esempio, che possono essere sempre motivi logico-razionali, di qualunque natura si siano, è difficile recuperare. O comunque ci può essere anche il caso che poi la relazione è andata a esaurimento, ad esempio. Cioè motivazioni passionali. Talvolta le passionali si possono ancora recuperare attraverso l'utilizzo di antagonisti, ma poi lo specificherò negli altri video. Ma in questo video volevo, appunto, comunque soffermarmi su cosa fare quando hai percepito che l'altra persona non ti vuole più. Allora, qui le cose da non fare, intanto, prima di dirti quelle da farti o quelle da non fare, sono quelle di stare a rimuginare. Uh, non mi vuole più, ma perché non mi vuole più, ma come mai? Io lo amo, io lo amo. Questo non serve assolutamente a niente. purtroppo non serve a niente. Quindi è inutile che stai lì a rimuginare, è inutile che stai lì a frignare, a pensare, a farti mille paturnie. Quello che puoi fare, le cose che puoi fare sono due, soltanto due. La prima è, diciamo, fartene una ragione. Cioè, renditi conto che nella vita bisogna saper accettare i rifiuti, bisogna saper accettare gli abbandoni, perché abbandoni e rifiuto fanno parte delle esperienze di vita. Eh, non puoi non accettarli. Cioè, una persona che, ripeto, io poi penso che in tanti casi sia possibile riconquistare l'ex. Talvolta è anche abbastanza facile, in questo farò dei video, tutte le varie casistiche, per spiegare come riconquistare l'ex nei vari casi. Però ci sono dei casi in cui non è possibile. Quindi, se tu hai percepito che c'è una motivazione logica, se tu hai percepito che c'è una situazione complessa, se tu hai percepito che ci sono problematiche di natura esistenziale potente, se tu hai percepito, insomma, che ci sono delle motivazioni solide, devi mollare la presa e fartene una ragione, la prima cosa. Infatti non hai ragione, quindi rendeti conto che nella vita quella è un'esperienza. Ma rendeti anche conto che magari le cose poi possono tornare, ma non devi più avere aspettative a quel punto lì. Io ho visto situazioni di ritorni anche dopo anni, ma non è che tu devi stare a aspettare anni, perché stare a aspettare anni è dannoso. Anche se poi spesso gli unici amori che non si dimenticano più nella vita e che si portano dentro sono quelli che ci hanno fatto vivere i grandi abbandoni, perché lì l'imprinting emotivo è molto forte, poi piano piano scemano, però si ricordano per un periodo lungo. Però bisogna ricordarli con piacere quello che è stato bello, se c'è stato qualcosa di bello. Bisogna ricordarlo. Se non c'è stato niente di bello, bisogna ricordare che non c'è stato niente di bello. ma a farsene una ragione. E come fai a farsene una ragione? Beh, semplicemente meditando sull'impermanenza delle cose. Questo non voglio tirare l'acqua al mulino del buddismo, però di fatto è questo. Perché se non accetti ti rovini la vita, no? Continui a, diciamo, a sperare. In questi casi la speranza va uccisa. Quindi, comunque, non c'è altro da fare. Lo puoi testare, ovviamente, prendendo tutto il tempo necessario, ma quando poi questa persona non ti cerca più, e anche se fai un no contact, anche se applichi poi delle tecniche, vedi che proprio magari è felice da un'altra parte, no? Cioè, è felice da un'altra parte. Può essere che dall'altra parte le cose vadano male e ci sia un discorso regressivo che torni da te. Questo è anche possibile. Però non devi più sperarlo. Quindi la prima cosa è te ne fai una ragione e ti stacchi. Per fatto non hai ragione, puoi anche seppellirlo, simbolicamente. Prendi una foto, la metti in una scatolina, lo soppellisci sotto terra e gli fai il funerale. Cioè, in modo tale che simbolicamente la tua parte emotiva capisce che non c'è più ed è più facile elaborare il lutto. Diventa quasi un'elaborazione del lutto. E la seconda cosa tassativa che devi fare è coltivare la tua passione e darti tu delle emozioni. Attraverso i tuoi comportamenti, interagendo con le persone, l'unica cosa che possiamo fare è interagire facendo veramente cose che ci danno emozioni. Come dire, anziché avere l'imbarazzo della scelta, fare un po' la scelta dell'imbarazzo. In questo modo, piano piano, avverrà anche un distacco energetico. Queste sono le uniche cose. E lasciare passare il tempo, ma senza pensarci più, senza dedicare più energie. Poi, se capiterà tra un anno, due anni, sei mesi, quello che è, che la vita vorrà che un evento sincronico accadrà e combinazione tu sei libero, lui è libero, o viceversa, le cose sono cambiate, tutto è possibile, ma devi distaccarti. Quando non ti vuole più, non ci sono altre soluzioni. Questa è l'unica. Continuare a illudersi, magari ci sono persone che restano illuse per anni e da stupidi. Quindi noi non siamo persone stupidi, siamo persone intelligenti, vogliamo riconquistare l'ex quando è possibile. Quando non è più possibile, però, come dire, non dobbiamo perdere tempo, perché il tempo è il bene più prezioso che abbiamo. Non c'è bene più prezioso del nostro tempo. Quindi non sciuparlo, non perderlo, non distruggerlo. Per questo video è tutto, seguimi su Instagram, Massimo Trammasco Ufficiale, su TikTok e ovviamente su tutti i miei canali YouTube.